si è conclusa da poco la partita Italia-Svezia terminata con il risultato di 1-0 con il gol nel finale di Eder questo europeo che si decide quasi sempre nel finale dove i primi tempi sono stoppacciosi e brutti no, dico se me stai seguendo no, non te so se rì ma perché non me segui? ma come si fa i cazzi miei? il primo tempo sempre stoppaccioso poi nella ripresa si ravviva un pochino e nel finale poi si risolvono le partite con gol pesanti quindi l'Italia passa il turno lo passa meritatamente? eh? lo passa in maniera meritata rispetto alla pochezza degli avversari rispetto alla pochezza degli avversari una squadra comunque di mediocri se vogliamo che insomma alla fine siamo overai e niente più comunque trovano le zampate per decidere le gare beh vabbè ma è possibile secondo te? è possibile questo? educazione educazione questa? oh! no dico educazione questo? ma come si si educazione? non è educazione no? si dico mi cagano oggi secondo te la squadra che ha espresso il miglior calcio in questo momento tutte le partite che hai visto tu segui il calcio? tu ero un zaire secondo me un zaire l'europeano che è un po' difficile onestamente la squadra che ha espresso il calcio migliore l'insegna De Neri è un brasiliano un brazista l'Italia col bagno non ha giocato male la Germania con si cos'era con la prima partita tutti con l'Ucraina non ne ho viste moltissime onestamente lo paghiamo lo paghiamo questo lo paghiamo al sugo di caramella ha detto che non ha visto partite non ho visto partite va bene voi che partite avete visto? diteci allora qual è la squadra secondo voi favorita la squadra che vi ha deluso il giocatore che ha espresso diciamo le sue potenzialità quello che invece ha deluso scrivete tutto qua sotto tanto a me non me ne frega un cazzo capito? però a voi scrivete 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 ma che a te te frega? dai che cazzo te frega? non è modo di via la gente ah no non è modo scrivete ah è Francesco sembra un ladro che si